Siamo con Eugenio Muzzillo per parlare di Terre del Gruppo, azienda calabrese. Eugenio, vuoi parlare un po' della tua attività? Sì, attività in merda di azienda perché non merita, è una realtà piccolissima, quasi artigianale, quasi un'attività scolastica. Facciamo vino per passione, ne facciamo tantissimo e cerchiamo di fare l'auto. Siamo in Calabria, a Cosenza, sulle ponte di Cosenza, c'è un terreno storicamente morto, portato alla futuro della vita, segnato nel paesaggio della Ristina. Cerchiamo di fare un vino particolare, un vino tedesco, un vino della marea di... Tutti ottimi, tutti buoni. Cerchiamo di fare un vino dedicato al territorio, quindi un vino che è un'altra, un vino di biglini in Magliocco. Il Magliocco è un biglino tradizionale, che è trovato da contadino, che è sempre un biglino storico, significato e di solito imposato. Noi lo facciamo rosso, cercando di salvare i frutti, cercando di salvare la stabilità, e di solito, perché è un'altra, 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 un'altra... ...passerese e piccole punizione.